eccoci buonasera buon pomeriggio in realtà sono le 5 e mezza c'è il sole alto che splende non è ancora ora di dire buonasera sono più stravolta del solito ma abbiamo smistato tutti i link adesso qui ci sono dei rimasugli domani li mettiamo li mettiamo sul scaffale però è fatta spero di non aver fatto troppi errori ma me lo direte voi vedremo la percentuale dei problemi d'ordine come sarà in questi giorni a venire buongiorno buon pomeriggio è stato un lunedì un po aggressive però ce l'abbiamo fatta adesso piano piano lavoreremo gli ordini non ne abbiamo fatti tantissimi stamattina perché ci siamo divise tra lo smistamento degli ink e gli ordini quindi insomma siamo un pochino in ritardo ad ora ci sono ancora un centinaio di ordini però insomma abbiate fede arriviamo eccovi qui buongiorno non mi sono preparata per fare nessun progetto oggi non sono proprio tanto tanto centrata vedo ink abisso glicine aloe tutti 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 ho finito la pazienza me l'hanno regalata andate in pace è un regalo della borsella non so come mai abbia pensato a me non so chi lo sa la pazienza è finita nell'89 l'ho finita presto me ne hanno data poca quando hanno fatto il pacchetto di ingredienti dunque 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 extreme ink smistati tutti i bundle di colori colori nuovi smistati tutti adesso trovate a catalogo gli ink che sono rimasti tutti ordinabili perché di alcuni siamo rimasti proprio con pochi pezzi trovate le carte trovate ancora forse due bundle di tommaso mi sembra fatemi vedere si ancora due bundle e sono arrivati gli emboss in folder dell'anelis che sono il motivo per cui faccio il live per farveli vedere spero che domani arrivi la nuova redis di onibis in realtà speravo già oggi ma pare che sia sono stato ritirato il pacchettino e che non abbia fatto avanzamento alcuno da portland oregon spero che domani insomma si veda c'è scritto la pazienza è finita andate in pace courtesy of e arriveranno a breve anche i reintegri ecco domani dovrebbero arrivare i reintegri delle fustelle di online create perché hanno già spedito arriveranno anche i timbri credo mercoledì perché hanno spedito oggi quelli li abbiamo presi in un ordine precedente da un distributore quindi insomma questa settimana comunque sarà ricca di arrivi vi preallerto che se tutto dovesse andare bene se la congiunzione astrale che riguarda le spedizioni si dovesse dipanare nel modo corretto per il weekend ci saranno delle novità non vi posso dire niente c'è il veto però sono belle dopodiché cose ufficiali di cui posso parlare spero che arrivi la collezione di kareen e anche la collezione dell'uncle image non l'hanno ancora spedito ma sono fiduciosa e poi abbiamo sempre l'incognita della fortinine che due collezioni io le aspetto fiduciosa abbiamo un quaderno dei Rabon d'altro canto da implementare quindi due due collezioni e credo che ci abbiano messo via anche tutte le carte della collezione di Vicky Buten Bold and Bright e gli abbellimenti arriveranno a ruota buonasera buon pomeriggio in realtà dai è super 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 luminoso ancora io sono un po' stanchina perché stamattina ho smistato circa 850 barattolini di ink spero di non lo ridirò più volte durante questo video spero di non aver fatto troppi pasticci ma me lo direte voi me lo direte voi con i problemi d'ordine però vi porto a vedere lo stato del tavolo davanti a cui canticchiavo sconsolata questa mattina ad ora vediamo no non donatori di stelle ad ora siamo messi così questo è quello che è rimasto e questo è quello che è rimasto qui quindi voglio dire sono stata brava fatto tutto passata la paura buonasera buon pomeriggio quindi posto che sono poco centrata poco centrata ma volevo farvi vedere gli arrivi di oggi sono arrivati un po' di reintegri dell'anellis gli embossing folder e in più ce ne sono una serie di nuovi che sono sempre 3D e sono sempre molto belli quindi volevo farveli vedere adesso li tiro fuori piano piano questo non mi sembra che sia nuovo tropical leaves no però l'ho preso lo stesso perché adesso d'estate insomma era tornato disponibile guarda un piano da guerra perché madre li ha messi tutti fuori cioè li ha tirati tutti fuori dalle scatole sabato e stamattina io sei dalle 6 che smisto ink quindi adesso sono un po' stanchina mi sono ordinata il sushi per cena il premio dei guerrieri sopravvissuti ci voleva il sushi e il mio ristorante preferito era chiuso quindi ho ordinato da un altro pensatemi perché sono un po' contrita anche questo aspettate che anche questo tropical non si vede benissimo quindi adesso lo apro e ve lo faccio vedere perché il riflesso della plastichina un po' ah perché invece così si vede benissimo ce l'abbiamo una cosa bianca potrei prendere un foglietto e così non si vede assolutamente niente era meglio dentro la plastichina rifacciamo così c'è un muro e questo ramage molto tropical si vede meglio così alla fine dei conti avevano ragione loro poi questo qui invece è un rientro sono le roselline ve lo posso lasciare qua poi questo in realtà non ricordo se l'avessimo già portato è un pattern di piccole illustrazioni baby che è perfetto per fare da sfondo per qualche album per qualche cornice non ricordo se l'avessimo già portato sono tornate le scritte che erano finite non è finite vero sì poi questo è un nuovo arcobaleni e sole di questo c'è anche lo stencil yes no mi sembrava di aver preso anche lo stencil aspettate che eccolo qua pillo poi questo è anche uno dei nuovi questi hanno anche un altro in carto poi vediamo cosa c'è qua questo non è di questa release qua ma è relativamente nuovo era finito subitissimo sono i fiori sono molto belli poi questo è un nuovo foglie pattern di foglie lì poi è lo stencil che vi ho già fatto vedere questo è ritornato anche questo l'abbiamo solo visto passare magari prima o poi lo provo poi quadretti poi triangolini vediamo un attimo qua qui ci sono le crocettine poi magari una di queste sere proviamo qualcuno di quelli avanzati ah ecco poi ho preso un sacco di questi il marigold perché anche questi li vediamo solo passare sono bellissimi questi fiori è uno dei primi forse che ho portato uno dei primi design che abbiamo portato dell'anellis di questa linea di emossing folder che sono stupendi hanno un prezzo super ragionevole e hanno un effetto 3D wow super wow non so se avete cantato con la germanella ma non l'hai messo germanella il file il file audio hai messo solo il testo io vorrei anche il file audio perché io non sono in grado di cantare il testo anche poco il ritornello se dobbiamo proprio essere sinceri ho chiesto alla germanella di scriverci il testo un testo rivisto di 44 gatti in fila per due per il resto di uno per l'ink e lei l'ha fatto magicamente cioè puf voilà tu chiedi e lei crea se volessi mettere anche il file cantato sarebbe molto carino così e la butto lì sempre per un'amica ah l'ha messo cantato non ho così portate pazienza non sono mica riuscita a vedere tutto perché oggi è stata una giornatina un pochino così e cos'altro vi racconto vi ho fatto vedere quello che è arrivato sì poi ci sono tutti i link sono tornate le carte insomma Tommaso dovrebbe essere più o meno tutto a posto ed è ancora tutto ordinabile è un genio sì assolutamente dovete però immaginarmi con una faccia assolutamente catatonica mentre mentre la canticchio avete cantato ma avete cantato voi o ho messo il file sai che no adesso guardo adesso apro il gruppo e lo guardiamo ensemble tanto il live di oggi era solo per farvi vedere queste due cosine che sono arrivate allora dov'è il post della germanella non c'è il file cioè non ha cantato visualizza post no mi dispiace non abbiamo materiale per il cucito creativo per la creazione delle bambole vendiamo prevalentemente carta e fustelle che utilizziamo prevalentemente con la carta quindi mi dispiace non abbiamo nulla vediamo un attimo no non c'è il file cantato germanella provvederei se ti va così per una mica sempre allora dicevo prima con qualcuno a cui piace non poco l'innominabile della spellbinders che la sezione dei nuovi arrivi si è popolata drammaticamente con un sacco di cose di natale a tutte le ragazze di cantare o poi mi dici si è popolata drammaticamente di tutta una serie di nuovi arrivi non solo natale ma c'è anche già un sacco di cose di natale 10 giugno e sto facendo la vedetta piemontese per vedere quando sarà possibile ordinarle io credo che queste cose ci arriveranno per luglio generalmente le uscite americane su natale sono a luglio quanti timbri del fiore sarà recuperabile fino a venerdì quindi ti conviene in realtà prenotarlo se lo vuoi perché sarà disponibile solo attraverso questo tipo di attività di promozione ne abbiamo ancora una novantina sono andate molte più fustelle che aspettate che te lo dico una novantina mi sembra sì una novantina mentre delle fustelle le fustelle sono finite e fino a venerdì ecco brava che me l'hai ricordato fino a venerdì potete recuperare il timbro del fiore della margherita che è il primo collezionabile della serie dei fiori dei fiori giganti che abbiamo fatto con un minimo d'ordine di 50 invece di 55 quindi fino a venerdì lo potete recuperare in questo modo poi piano piano adesso faccio fare gli altri due timbri e poi questa cosa diventerà continuativa quindi si daranno il cambio i timbri quindi timbro fustella poi di nuovo timbro fustella darò sempre modo di recuperare chi ha preso la fustella e viceversa insomma per chi ha preso la fustella e non il timbro darò sempre modo poi in uno spazio di tempo di recuperare il timbro ok comunque buon viaggio sei pronta per tutte queste ore di aereo buonasera ciao maria come state qui è estate adesso è estate piena devo dire che questo weekend ci siamo fatti mancare delle piogge Sirius vuoi dire ciao Sirius Sirius vuoi dire ciao vogliamo dire ciao la connessione non regge Sirius vogliamo dire ciao un bellissimo deretano ma Sirius ciao more va bene non mi siamo social l'ansiolitico sul comodino no vabbè ma dormi quante ore di volo abbiamo io dormo un tempo guardavo film leggevo adesso quando quando mi capita di fare questi voli lunghi adesso un po' che non vado più oltre ceno dormo proprio mi siedo e dormo proprio non c'è problema un tempo solo l'andata solo ritorno adesso invece anche l'andata diventa motivo per riposarsi 12 ore caspiterina continuato parla pa assemblea di condominio no not really funny la maglietta è un regalo della borsella la pazienza è finita andate in pace dovrei averne una per ogni giorno della settimana così insomma e il venerdì insomma l'andata in pace potrebbe tramutarsi in qualcosa di non particolarmente carino insomma oggi era la giornata giusta oggi era la giornata giusta secondo me per sfoggiarla non so voi come la vedete ma però pensavo peggio Link nel senso che mi sono assolutamente isolata in una mia dimensione parallela di silenzio e ho smistato stampato smistato stampato smistato scalo a Roma poi Roma Toronto dai io dormo sui voli per l'assemblea buonasera ben arrivati ciao a tutti io ho fatto vedere brevemente gli unboxing folder che sono arrivati trovate tutte le foto anche sui canali social lo ridico qui adesso poi giuro che mi attivo per il numero di whatsapp è una cosa che mi dimentico sempre di fare perché quando vado nel centro commerciale dove potrei attivare questa utenza sono sempre di supercorsa perché ci vado a fare la spesa il venerdì e sono super di corsissima ma giuro che uno di questi giorni mi prendo quell'oretta in più che mi serve per fare questo ma abbiamo attivato una bacheca di pinterest dove andremo a postare tutti i link dei video dei prodotti contenitore e abbiamo rispolverato l'account di tiktok se qualcuno ci vuole seguire anche lì proviamo vediamo io non sono proprio tantissimo da tiktok mi sento un po' troppo boomer oh mamma mia 39 di febbre ma no e che con questi sbalzi di temperatura c'è veramente tantissima gente malata quindi purtroppo penso che ce la porteremo dietro ancora per un po' i prodotti sulla sezione coming soon almeno nei negozi c'è già la sezione coming soon e ci sono delle cose di Natale non so se la Braguti ha guardato adesso guardo sul sito normale arriva sales club coming soon vediamo ancora non si vede la cosa di Natale ancora non si vede c'è tanta roba Patrizia mi serve un po' l'ottoliere per capire di che tipo di risorsa economica ho bisogno per far arrivare tutta questa roba perché sono tutte belle i rametti non ve lo so neanche dire ma io sui rametti non capisco più niente cioè nel senso perdo ogni lume ci sono tantissimi nuovi prodotti fustelle embossing folder ci sono i sigilli ci sono le plate vedrete che tra qualche giorno si aggiorna anche il vostro perché non è giusto che siamo da soli a portare questo peso immenso Braguti non è ancora aggiornata la sezione del sito B2C guardate vi dico solo che c'è una slitta che mi ha proprio preso il cuore la metterò dovunque e che siamo assolutamente letteralmente bombardati adesso arriverà la collezione di Vicky la Bold and Bright e in realtà tra un mesetto un mesetto qualcosa uscirà quella di Natale a luglio ci sarà la collezione di Halloween di Paige Evans e boh già Natale eh però in America il Christmas in July non so se abbia qualche altro tipo di radice però da quando da quando ho iniziato a rivendere questi prodotti luglio è il mese in cui in America escono praticamente tutte le collezioni probabilmente per dare tempo di preparare tutti i lavori per Natale per tempo rispetto a quello cui siamo abituati noi per me è un po' prestino nel senso che poi quando noi ci ritroviamo a lavorare effettivamente con le cose di Natale queste collezioni ciao ne sono già finite ma penso che nessuno di noi resista al Natale è bello così cioè è il momento più bello almeno per me è il momento più bello dell'anno dove creare dove insomma è il momento dell'anno più bello quindi insomma adesso ci informiamo per i finanziamenti queste cose qui quindi io oggi passavo solo per un salutino per dirvi che siamo sopravvissuti allo smistamento degli ink che li abbiamo lasciati ordinabili perché di alcuni siamo rimasti proprio con pochi pochi pezzi quindi potete comunque continuare a prenotarli e ci sono solo due bundle di Tommy quindi se qualcuno volesse ancora approfittare del bundle il primo corso è domani però in realtà i corsi rimangono visibili poi nel tempo io domani spero di ricevere la collezione nuova di Onibis e poi vi aggiorno ripeto non posso dire niente perché non possiamo ancora dire niente però verso il fine settimana potrebbe esserci una bella bella news che se arriva in tempo potremmo avere in tempo per la presentazione ufficiale che verrà fatta dal brand a rosso natale io anche se non è rosso nel senso se è natale anche viola anche bianco e nero cioè vince sempre easy proprio quindi vi rilascio poi il link alle novità per andare a vedere i nuovi embossing folder e l'assortimento di embossing folder della Nellis e poi a seguire trovate tutto l'aggiornamento dei prodotti degli ink che sono 47 che sono 44 in fila per qualcosa con il resto di qualcosa i colori che già conoscevamo e più ci sono i tre nuovi abbiamo ancora qualche bando alla disposizione dei colori dei colori nuovi che sono il giallo chiaro l'arancio chiaro il mandarino un ordine in sospeso vuol dire che non l'abbiamo ancora lavorato è tutto a posto ma semplicemente non ci siamo ancora arrivati sono sempre tutti in sospeso gli ordini quando li fate quando vanno a buon fine quindi quando si chiudono nel modo corretto semplicemente non cambiano stato fino a che non ci mettiamo mano e non li mettiamo pronti in attesa di pagamento oppure non li mettiamo spediti è lo stato classico in cui vanno gli ordini una volta che li chiudete unconventional ogni tanto qualcosa di unconventional ce lo metto non ho ancora scelto come fare la collezione di natale dei tails adesso vediamo la collezione che uscirà a luglio è pigiamosa quindi è un po' classica anche se in realtà c'è del rosso ma c'è anche un violetto un azzurrino insomma un pochino di unconventional c'è anche lì allora io vi abbandono vado a buttarmi sul divano dopo questo smistamento folle che devo dire però è andato meglio del previsto non credevo che sarei riuscita a finire di smistarli tutti oggi quindi sono molto contenta perdonate per il ritardo con l'elaborazione degli ordini però ne abbiamo fatti tanti comunque questa mattina ma ovviamente ci ha lavorato solo Elisa perché io sono stata impegnata a smistare gli ink ma era prioritario smistarli per poter mandare avanti tutta una serie di processi c'erano persone che aspettavano solo questi per la spedizione e quindi insomma dovevamo farlo grazie ancora a tutti ci aggiorniamo domani con gli arrivi vediamo domani insomma in che condizioni arrivo al pomeriggio magari facciamo il my two days oppure vediamo di fare qualcos'altro io per ora vi ringrazio buon pomeriggio e buona serata ciao 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 ciao